Approvvigionamento nemico in arrivo. Controllo perso. UAV alleato in sorvolo. UAV alleato online. Warbird alleato in volo. Stenta Warbird richiesta. Porto Warbird richiesto. XS-1 Vulcan alleato in arrivo. U.A.V. in attesa. UAV alleato online. Siamo messi male. Addosso. La notte. U.A.V. in attesa. Sì. U.A.V. alleato in sorvolo. Sì. Bene squadra, Irons ne sarà informato.